Omicidio ad Anzio, Leonardo Muratovic ucciso a coltellate tra i locali della Movida. Un giovane di 25 anni, Leonardo Muratovic, originario di Aprilia, è stato ucciso nella notte ad Anzio al culmine di una lite avvenuta fuori dai locali della zona della Movida. Siamo in riviera Mallozzi, zona che, specie nei weekend estivi, si riempie di giovani a caccia di divertimento nei locali della cittadina del litorale a sud di Roma. Sono da poco passate le due quando, sembrerebbe per futili motivi, scoppia una lite, volano parole grosse, si alzano le mani e alla fine qualcuno tira fuori il coltello, a farne le spese il 25enne Leonardo Muratovic colpito dai fendenti inferti con l'arma da taglio, immediata la richiesta dei soccorsi e la corsa all'ospedale, con il decesso però sopraggiunto a bordo dell'ambulanza, disposta l'autopsia per capire quanti colpi siano stati inferti. Le indagini Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio che hanno ricostruito l'accaduto e iniziato la caccia all'aggressore, presente anche la scientifica che ha isolato ed esaminato nel dettaglio la zona, ascoltati tutti i testimoni presenti, gli amici della vittima e i proprietari dei locali, saranno acquisite anche le immagini delle tante telecamere della zona che hanno ripreso l'accaduto. A coordinare la procura di Velletri che ha aperto un fascicolo, il pubblico ministero Vincenzo Antonio Bufano ha eseguito un sopralluogo sul luogo del delitto. Da settimane il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha disposto un rafforzamento dei controlli sulle piazze del litorale più esposte al fenomeno della movida estiva, tra queste c'è anche Anzio, dove polizia e carabinieri nelle scorse settimane hanno controllato centinaia di giovani, monitorando soprattutto la zona di Riviera Mallozzi, frequentatissima per la presenza di locali notturni.